La decisione austriaca di non aprire le frontiere per la questione del coronavirus la riteniamo grave per i nostri territori, ma non solo per i nostri territori. È un problema grave per l'intero sistema, non solo per la parte turistica che ci colpirà pesantemente, ma per la parte economica di tutto il Paese. Quindi crediamo che il governo italiano debba intervenire subito nei confronti del governo austriaca nei confronti dell'Europa, perché l'Europa non può trattare il nostro Paese in questo modo, non può trattare la nostra regione, la nostra provincia autonoma in questo modo. Chiediamo una forte presa di posizione da parte del governo nazionale.